è uscito un comunicato del movimento 5 stelle io lo trovo divertente dice il movimento 5 stelle si dichiara estraneo rispetto a presunte vicende legate alle lobby del tabacco l'italiano un po barcollante ma non è questo il problema come estraneo e qui c'è poco da discutere non è che stiamo facendo delle ipotesi è certo che a la philip morris ha pagato casaleggio ha pagato casaleggio circa due milioni di euro in due anni due anni e mezzo certo sicuro la casaleggio è e soprattutto era all'epoca il quartier generale dei 5 stelle si è scritto nei contratti si è scritto i deputati e il senatore 5 stelle hanno votato una misura che tagliava le tasse e alla philip morris per la produzione delle sigarette elettroniche tagliava in maniera molto cospicua centinaia di milioni levati all'erario levati allo stato su queste tre cose non si discute il movimento 5 stelle può fare un comunicato in cui dice ci siamo sbagliati a chiediamo scusa restituiamo i soldi non lo so può fare tante cose ma non è che può dire che è estraneo a quella vicenda ci sta dentro fino al collo pensate addirittura che la ministra grillo che era ministra della sanità e il ministero della sanità aveva tirato fuori dei documenti del quale risultava che non è vero che la sigaretta elettronica non fosse nocive quindi che non bisognava abbassare le tasse si è scontrata lo dice lei si è scontrata col movimento e quando hanno potuto l'hanno presa l'hanno buttata fuori è stata cacciata dal ministero cacciata dal ministero perché si era comportata male si era opposta questo dice lei e poi io non so se è vero si era opposta alle lobby del tabacco e allora e c'è poco da dire qua e là ci stanno dentro fino al collo quello che stupisce casomai è che stiano abbastanza tranquilli non ci sono grandi scontri molti giornali la gran parte dei giornali tranne due o tre non ne hanno neanche parlato di questa cosa ne ha parlato repubblica ne ha parlato la stampa ne ha parlato il giornale mi pare nessun altro grande quotidiano come mai io faccio solo questa domanda come mai però l'altro domani pubblichiamo sul riformista un'intervista a rino formica ve lo ricordate rino formica ministro delle finanze vecchio socialista braccio destro di craxi tante volte attaccato vi ripeso lui racconta con i documenti alla mano di come si oppose nei primi anni 90 fine anni 80 la philip morris si trovò tutti contro tutti contro i politici e i giornalisti editoriali dei grandi giornali contro lui fa anche i nomi comprate la domanda il riformista e leggete anche i nomi di chi si oppose è una vecchia storia questa della philip morris che ci ha provato in tutti i modi e che ora ha preso in mano il partito dei cinque stelle non possono non rispondere devono rispondere e non può non rispondere il governo deve rispondere e il pd non può starsene zitto e deve parlare non può stare zitto se è vero che sta facendo il governo con i cinque stelle il partito dell'onestà che ci ha rotto le palle a tutti quanti per anni che doveva essere onesti trasparenti eccetera e pigliava i soldi dalla philip morris ma è dio buono qualche iniziativa dovrà prenderla dovrà scrollarsi di dosso questa robaccia